colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo tutorial su red dead redemption su come trovare tutti gli acchiappasugni quindi state bene attenti in mappa e troverete tutti quanti gli acchiappasugni allora colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi il forum del team glitch ringrazio anygamer per la clip purtroppo ultimamente non ho molto tempo per girare le clip poi specialmente scusate su red dead redemption ho pochissimo tempo e quindi ho usufruito di questa clip tanto o la porto io in questo modo o comunque comunque sia gli acchiappasugni si trovano in questi punti detto questo ragazzi ricordatevi di passare in descrizione per tutti i link del team glitch per il canale di anygamer centurion dark glitch che siamo noi i componenti del team glitch volete restare sempre aggiornati ricordatevi tutti i vari contest che sono sui vari canali di dark glitch e il mio ci sono degli account in palio c'è un po di tutto ragazzi quindi mi raccomando iscrivetevi al gruppo telegram che lo trovate in descrizione anche questo insieme a tutti quanti i miei sponsor detto questo non ho nient'altro veramente da aggiungere vi lascio al resto del video mi raccomando seguitelo tutto quanto alla lettera per trovare questi cazzo di acchiappasugni un saluto a tutti al prossimo video bella per tutti ragazzuoli ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti